Ok, bene gente, rieccoci qua in una nuova puntata del Let's Play su Aoni Cioè il Devone Blu Stupratore Nudista, come cazzo lo volete chiamare Eravamo rimasti qua dove... Ehm, scusate, dove... Con oggetti abbiamo un sapone, voi bagniamo il sapone, sì! E poi laviamo il ca... lì, quel coso Sì, ho pulito il pi... Sì, ti pronti a partire? 6, 7, 9... Corri, corri! Ah! Porta aperta, grazie a cazzo, non ci mancherebbe altro Corri, corri! Corri, Dio mio! Oh sì, l'ho evitato! Cazzo, ok Ma sentiamo, oh, eccolo Dio si deve aprire Non guardo, non voglio guardare Se n'è andato Ho sentito Ok Silenzio più totale Torniamo in quella cazzo di camera da letto Ok Oddio, sentissimo Oddio, mia ce l'ho fatta Cioè, era una cosa complicatissima Ci ho messo tipo 20 minuti Chiave della camera da letto del bambino Non meraviglia una sega del bambino Morisse il bambino Come ha fatto patire Ha fatto... Dov'è la camera da letto del bambino? Oddio Benedettissimo, santissimo Non l'ho salvato Sono... Sono coglionissimo Uccidetemi Continua, continua Dove continuo? Ok ragazzi Ora si salva Siete tutti contenti? Ora salviamo Sennò io urro qui E muoio Ok, ho preso la camera da letto del bambino Insomma, la chiave da letto Ok, devo stare attento Da quello stronzo Sarà questa? Che culo mamma Oh, una donnina Ciao donnina Hiroshi Oh sì Vuoi fare atti sessuali? Stai bene? Sì Dove sono gli atti? Oh sì Non ne ho idea Ci siamo separati Eh, allora quindi mettiti con me Vieni con me Non aspetta qui Stai qui Vaffanculo, vai Io non voglio gente con me Ah, proprio Va Niente Cioè, non avrei compicciato una sega Ok, stiamo attenti a quello stronzo Quindi lo andiamo a cercare al giro A caso La porta è chiusa Proprio culo, eh Culo proprio alla deretano Culo deretano Culo deretano Che è chiuso ora Diciamo a caso i tasti Oh, merda Cacciavita stella Mi faccio le segui Cacciavita stella Qualunque cosa Ci posso fare Cacciavita stella Posso strurare un Cesso che parla Ok, niente Mostro Eh, donnina Vieni con me Vai Takuro 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 Oh, madonna Takuro 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 Solo quello che lo sa dire Eh Qua Ta 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 No, non voglio entrare Non voglio entrare nel caccatoio Merda Ringrazio a sdrupare Smith Dopo quello che mi ha fatto No, qui non c'è più altro Dove a fare Abbiamo trovato la donnina Punzi Punzi Che si chiama Non mi ricordo Insomma Oh, ok Va bene Hiroshi Ma è una donnina questa Sì, credo di sì Hiroshi L'hai vista anche tu quel mo- No, guarda Sì, no, non credo La crescita non esista Oh, yeah Buona fortuna Eh Ma io spero che sia una donna Non vorrei Aver detto quelle cose a un maschio Scusate ogni tanto stop Per questi cazzo di tosse Merda Questa è chiusa Ah, ma si può andare anche di qua Ah, oddio Mi è tornato per me Per stuprarmi Corri 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 più veloce Nudista C'è un mostro nudista Ah Ah, ah, ah Corri Corri Salvo Oh, yeah, oh, yeah Oh Fai lato come un pezzo di merda Ah, ah, ah Ok, meno male che l'ho salvato Ok Beh, attenti alle porte giapponesi Perché Loro possono Far spawnare mostri E' un uomo di blu Ma torna, dite Oh, è tornato No, no, torna, torna Dai ragazzi I mostri tornano sempre Ricordatelo Ritorno Corri Il mostro nudista Quello lì è uno stupratore È un puffo Corri Corri Ok, ce l'ho fatto Ok, eccolo Entrato, zitti Sento respirare Hai raffreddore Ok, possiamo uscire Ok, non è una tosse Da interrompere il video Comunque, bei Pampinuts Bei Pampinuts Andiamo nella porta di prima E troveremo qualcosa di Mucio, mucio sexy Ok Qui ha fatto qualcosa Sto stronzo Però non ci posso Ah, se non lo ascolto Devo la pedobea Proprio chi è Questo è più scuro Qualcosa non ci dobbiamo fare Cacciavite No La scheggia di piatto Sì Non c'è una maniera Ah, quindi non l'ho fatto un cazzo Vabbè, allora usiamo La caccia di testa Vaffaculo vai Assorta Proprio fiero Salviamo E che potrebbe arrivare Lui mi aspetta Soltanto me Per arrivare E incularmi A sangue Fiero Donnina Sei sexy Ta cura Sempre ta cura In qualche modo ragazzo Posso fare Troverò La Cazzo Merde Merde Vaniglie Una maniglia Ora arriva il mostro E mi fa Boo E io corro Dal mostro nudista No, non ha senso Devo usare questo Coso Cacciavite A luna Stella Che cazzo dico No, qui entro dentro Qui apro la porta Ah Ah Culo Tutto culo Ok E mio mio è un boss Basta E di un'intelligenza Più mortiare Sì 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 Ok Prendiamo invio Perché Lui arriva sempre dai posti Che te non ti aspetti Per un fiero Arrivò Se dice Ti voglio Bambino Vieni da me Ti voglio stuprare E te fai Ah E le corri Oh yeah Tutto nero Tutto nero Tutto nero Inutile Inutile Vabbè Chiudi 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 Estero aspect Ecco ecco Forse l'accendino Posso da fuoco Qualcosa Non si vuole Accendere Ora si vado qua Si vuole accendere C'è la vita a stena Non si accende Questo Non si vuole accendere Edibile Ah Cazzo Cazzo È arrivato Lo stronzo Oh Oh L'udista 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 Il pole position Ah Corri Corri Oh Oddio Oddio Oh Ok Il gatto Mi sta guardando male Il gatto È Sono inseguito Da un mostro Nudista Sì Neanche te Vorresti essere Inseguito Da un Che Il cazzo Dio mio L'ha preso Accendilo qui Oh Sono stupido Scusate Non ho preso Il cazzo Lì Il pisellulli Mi ritorno con lo stronzo Lì A improvviso Ok Non fa una Però Non è un cane Ragazzi Non è un dannatissimo Cane Adesso è uscito Lo stronzo Però qua Sappiamo tutti Che c'è un cazzo Di accendilo E qua Devo mettere La porta La maniglia Insomma Maniglia Ok Io entro E' meglio che non ci entri Ci metto la stella Non si vuole accendere Perché è una schifezza Sto accendire Perché sono da cinesi Ragazzi Io sto per morire Di noia Questo gioco Mi sta facendo Impazzire Sapete cosa vuol dire Impazzire Peggio che Minecraft Peggio Vedete Lassù Vedo che c'è Quel cazzo Di coso Ma non Non capisco Se andiamo in end Donina di merda Basta Basta cose spastiche Da Oh con il video Si sposta Aspetta Aspetta E il mio mio è troppo nano Per arrivarci Ma Ci fai Combustibile Combustibile Salviamo Salviamo Perché arriva il mostro Quando ti fai una cosa importante Che tu le vai fiera Poi arriva lì Arrivo E c'è stupro Basta Devo smettere di fare il coglione Condannatissimo Combustibile Si Accendi Che C'è una candela La vuoi accendere? No voglio rimanere così Guarda Oh Letto No non ci sono i letti spostabili ogni volta Questo non si può spostare Candela Quadro Eh 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 Uah Ci arriva anche Che Mi chiamano la candela Ah Mio Dio Oddio Sento i passi in cucina Mio Dio Avete visto con che fuga Si è abbattuto su di me Quello lì E Pedobear vestito da puffo nudista Mio Dio Santissimo Dio Non so cosa Aiutami te Perché il mondo è pieno di questi Mio Dio Avete combustibile Eh Aridaglie Aridaglie Accendino 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 Vai Ok Interruzione mamma che torna a quest'ora dal lavoro Ok Calmi Allora Abbiamo qui Qui Secondo me Devo chiudere Ok Ho chiuso Meno male Ah Ho trovato un certo Chiave Oddio No Calmo Oddio Mi hai rinchiuso Posso anche Tirare Oddio È bruttissimo Oddio 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 Grazie per averci fatto visita Ok Ora la chiave Ora una fottutissima chiave con cui potrò conquistare il mondo Sapete vero? Non lo sapete per niente Chiave La chiave Hai questa qui di forza la cantina dove esce sempre lo stronzo E hai visto È l'unica che non si poteva aprire Oddio Oddio Si dururro Quella la voce Mica Oddio 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 Questo bravo Era qui Sì era qui Che cazzo Ma che cazzo Oddio Oddio Corri 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 Veloci Oddio 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 Sto 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 non lo so mamma mia c'è una cosa brutta, ho visto una donna nera che era in terra e lui la stava segando non lo so mettiamo un bastogno che cazzo è morta morta stuprata proprio stanca dopo una lunga sessione di maratona di sesso basta oh, oh si, lì c'è qualcosa non ci posso arrivare complimenti ai ideatori che mi fanno incazzare non posso, ok comunque la serie mi porterà a tanti problemi ok aspetta è come nel gioco dei pokemon c'erano quelle rocce di merda che mi facevano sempre incazzare giusto la cosa sembra che sta inculando la serie, non lo so laica boss dai, dai, dai un po' di forza, aprete oddio, 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 ai capelli oddio, chi è? come si chiama? allenato zero, oddio, oddio, allenato zero va dai, 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 dai non mi pare Grazie per la visione!